Non abbiamo ancora tante da lavorare, ma sono soddisfatto per l'ambiente che ci ha creato, per la determinazione negli occhi di tutti e quindi sono molto ottimista che la crescita sarà costante, ma si vuole tante lavori ancora. Vincere vogliono vincere sempre tutti, è sottointeso, ma no, convincere, convincere le cose che vogliamo fare, convincere perché poi la conseguenza probabilmente è che si vince, ma di fare una partita sotto profilo di intensità, sotto profilo di intenzioni, positivo, propositivo.